La motivazione non è desiderio secondo me, per la mia esperienza. La cosa che mi ha motivato più di tutti è la paura. La paura di cose, di AI, no? La paura di tornare a zero, la paura di deludere me stesso, la paura di essere la persona con un potenziale minore rispetto al mio massimo potenziale, la paura di non essere la migliore versione di me stesso per me stesso e per la persona vicina a me, la paura di non performare al massimo quando avrei potuto farlo. Tutte queste sono paure che costantemente ogni giorno ho. E sono queste le motivazioni che mi fanno alzare la mattina, andare in palestra anche quando non c'ho voglia, fare le cose anche quando non c'ho voglia, perché tante volte non ho voglia di farle, però le faccio perché ho paura. Ed è la motivazione più grande. La paura di tornare a zero per un imprenditore penso sia una delle cose più importanti che ti spingono a fare più cose in assoluto. E paura inteso come frustrazione, inteso come ansia, inteso come emozioni negative, inteso come voglia e fame di arrivare e soprattutto di allontanarsi da quello che era la situazione di prima.